Buongiorno, poco più di un mese fa ho annunciato la mia ricandidatura alle prossime elezioni milanesi. In queste settimane ho continuato come continuerò a svolgere il mio lavoro da sindaco e, insieme, ho cominciato a mettere in mano il percorso elettorale, che spero porti a vedermi riconfermata la vostra fiducia. Anzi, in queste giornate così delicate dal punto di vista politico per il nostro Paese, sto spingendo ancora di più, in puro spirito ambrosiano. Ho creato il comitato elettorale, affidandone la presidenza a Maura Santa Flores. Da lunedì avremo degli uffici in un co-working e siamo già belli attivi. Chiunque desideri partecipare alla mia campagna elettorale, con idee e voglia di impegnarsi, può scrivere all'indirizzo email comitato-beppesala.it. Il comitato elettorale governa la campagna fino alla presentazione delle liste dei candidati, il che avverrà 45 giorni prima delle elezioni. Al momento non sappiamo quando si voterà, penso che in febbraio ci possa essere un chiarimento in proposito. Ad oggi posso però annunciare che ci saranno almeno quattro liste a mio sostegno. Partito Democratico, Milano Unita per intenderci le forze a sinistra del PD, Europa Verde e Beppe Sala sindaco, di nuovo per intenderci la mia lista personale. Sono certo però che la compagine non si fermerà qui, altre forze politiche hanno ancora bisogno di tempo per capire con che formula partecipare, cioè se con liste singole o in aggregazione, ma non ho il minimo dubbio che saranno con me. Ovviamente il punto non è avere quante più liste possibili, a mio avviso però il difficile momento storico suggerisce apertura più che chiusura, disponibilità all'unione piuttosto che sottolineatura delle differenze. Chiaramente nel rispetto di valori e programmi condivisi ci mancherebbe. È certo che mi batterò e chiamerò a battersi con me quelle forze politiche che credono in una città aperta, dove tutto è possibile e dove soprattutto si può davvero ragionare su qualsiasi cosa. Una città che lotta per l'equità sociale e che intensifica l'impegno per l'ambiente. Sulla transizione verso un modello più ecologico, Milano sta già facendo molto, ma intendiamo moltiplicare gli sforzi per una città a energia pulita, mobilità sostenibile, digitalizzazione avanzata e partecipata, servizi ai cittadini sempre più prossimi e accessibili. Per fare questo ho inteso chiamare anzitutto i giovani a partecipare e eventualmente a candidarsi. Si comincia a costruire il futuro nel presente e le energie giovani sono e saranno indispensabili per disegnare la città che si rialza dall'emergenza sanitaria, sociale e economica. L'offerta di opportunità è il cardine dell'equità, del vivere secondo una giustizia sociale che non lascia indietro nessuno e anzi offre la possibilità a tutti di andare avanti. Dalla scuola al mondo della produzione vanno allargate le capacità di sviluppo individuale e collettivo. È la prospettiva che, da sindaco e da candidato, propongo alle cittadine e ai cittadini, alle lavoratrici e ai lavoratori. A tutta Milano.